Sì, non lo so. Non lo so, o è morta assiderata o se lo sono mangiato ai lupi. Il mio maestro Michele. Papà mio dice che il papà suo e il papà di papà suo sono due stronzi. Ecco, perché? Sì, capito? Cioè, tu da Roma ti sei fatto trasferire qua. Ghiaccio, neve dormita, la scuola non deve chiudere mai. Mi sa che mi devo dare una svegliata. Mi sa pure a me. L'istituto scolastico chiude. Come chiude? O noi entro una settimana troviamo quattro bambini o la scuola chiude. Centinaia di ucraini hanno raggiunto la Sardegna... Cazzo, bambona! Agnese? Scusa, pensavo fosse mio marito. Loro hanno bisogno di una casa, di un paese che li ospiti. Noi, dei bambini. Che belli che sono! Ma cosa sono i cervi? Sì. Sono un branco, vero? Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì. Eppure tu sei entrato in un mondo a parte. Il nostro. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.